Vi domando io, cosa garantisce la democrazia che una dittatura non possa garantire? Certo, garantisce qualcosa, ma lo sapete qual è? Garantisce la invivibilità della vita. Non risolve la vita! Chi sceglie la democrazia, chi sceglie la libertà, sceglie il deserto. Se la democrazia fosse mai libertà. La democrazia non è niente, è solo mera demagogia. Ma qualora noi meritassimo una libertà, dovrebbe essere affrancamento dal lavoro e non occupazione sul lavoro, anche se non si scappa mai. Questo è il discorso d'Italese sulla letteratura minore, su Kafka, dalla catena di montaggio. Non si sfugge mai.